In Italia continua a esserci sempre qualcuno che è più uguale degli altri e questi qualcuni sono i parlamentari, soprattutto quelli della prima legislatura, che non vogliono assolutamente saperne di perdere il diritto alla pensione da parlamentare che con una sola legislatura, anzi meno di una sola legislatura perché sono 4 anni 6 mesi un giorno, maturna al scomplimento dei 65 anni il diritto ad avere una pensione di 1500 euro al mese circa per finché campano, limite che cala a 60 anni se uno ha fatto anche più di una legislatura. Per tutti gli altri ovviamente vale la legge Fornero e la pensione se la vedono col binocolo. Cari amici vicini e lontani, benvenuti a questa puntata dello schiacciassassi da parte di Stefano Elena, se starete con noi fino alla fine della puntata vedrete anche come il nostro Domenico Lacavani interpreta a modo suo in maniera sempre arguta e piccante la situazione. In questi giorni all'interno del Parlamento della Repubblica il tema principale non è tanto la legge finanziaria ma è soprattutto dire come conservare il diritto al mantenimento della pensione, allo scoccare dei 4 anni 6 mesi un giorno, anche nel caso di una conclusione anticipata della legislatura, cosa che non è del tutto irrealistica, calcolando le tensioni che ogni giorno stanno crescendo all'interno della compagine di maggioranza parlamentare e l'allarme più grosso da parte di deputati e senatori al prima nomina, 690 parlamentari in tutto, è proprio quello di portare a casa i 50.000 euro di contributi versati che altrimenti andrebbero inesorabilmente persi. Qualcuno, più furbo degli altri, ha scartabellato tra le varie regole, regolamenti, pandette che ci sono all'interno del sistema dell'autogestione, la famosa auto di Kia delle assemblee parlamentari e ha trovato quello che potrebbe essere l'escamotage che fa al caso di molti, ovvero sia quel procedimento che è stato riconosciuto la possibilità di integrare volontariamente i contributi mancanti da parte di quei parlamentari che erano stati eletti, che erano stati dichiarati in carica dopo l'entrata regolare delle elezioni come quelli che sono subentrati in caso di morte dei deputati o in dimissioni o quant'altro. Ovvio che a questi era materialmente impossibile compiere l'atto, la legislatura integrale e a questi si sono rivolti alle giurisdizioni interne della Cama per dire è a noi, la pensione è un nostro diritto, però come facciamo a maturarla se non riusciamo a compiere non per colpa nostra l'intero arco della legislatura? Ecco perché per quest'oro si è trovato il grimandello di poter consentire lo versamento dei contributi a livello personale in modo tale da poter maturare l'agoniato Latticlavio alla fine dei 65 anni o altrimenti anche prima nel caso che dovessero essere rieletti. E questo grimandello pare avere illuminato quei tanti personaggi, soprattutto grillini, leghisti ma anche Italia Vivi, buona parte dei pidini e qualche anche forza italico che avevano un estremo dubbio, un estremo arrovello della loro vita di quello di cercare di tenere la legislatura in vita almeno fino al 24 settembre 2022 quando scatterà appunto l'agoniato 4 anni, 6 mesi e un giorno di durata della legislatura. Poi muoia a Sanansone tutti i filistei e intanto la pensione questi qua se la portano a casa. Il problema come al solito è la duplicità di trattamento perché per i parlamentari si fanno i classici ponti d'oro con trattamenti pensionistici 1.500 euro al mese a 65 anni che la stragrande maggioranza dei lavoratori che hanno sgobbato per oltre 40 anni se la sognano e soprattutto che questi contributi, questa pensione, se la trovano con solo 50.000 euro di contributi versati quando bene o male un lavoratore medio nel corso della sua carriera, soprattutto se ha fatto il contributivo versa mediamente circa 10.000 euro all'anno di contributi per avere una pensione che se va bene sarà intorno ai 1.900, 1.000, 1.100 euro di pensione con un reddito medio a fronte di circa 1.200, 1.500 euro al mese. Due pesi e due misure come si diceva c'è sempre il paese in cui c'è chi più è uguale degli altri. Ebbene, forse sarebbe ora di definirla, soprattutto da parte di quei signori che erano entrati nel Parlamento con tanti bei presupposti, all'insegna addirittura brandendo quel famoso apri scatole che serviva per aprire la scatola del parlamentare, dell'assemblea per poter fare entrare la nuvità, la libertà, il popolo. Ebbene, a costoro l'apri scatole lo hanno buttato via e dentro nella scatola si sono ben chiusi a doppia mandata con tanto di saldaturice ad arco continuo per evitare di uscire e di perdere tutti i privilegi. E anche quelle persone che, a partire da Di Maio, a partire da Conte e quant'altro, che dicono che hanno predicato bene ma hanno razzolato male, forse peggio degli altri, bene, a quest'oro sarebbe opportuno dire la legislatura anticipata venga il prima possibile, non ne possiamo più, di questo Parlamento che è uno forse il peggiore della storia repubblicana. E da questo punto di vista un appello ai partiti, anche se sarà difficile che venga rispettato. Per favore, quando fate le liste, non mettete dentro candidati che sono solamente come pedigree il fatto di essere l'amico, l'amante o la fiducia del capetto di turno. Mettete dentro per cortesia delle persone che siano capaci, che sappiano quello che dicono e che soprattutto riescono a dare un po' di lustro a questo disgraziato paese. Cari amici vicini e lontani, ecco come il nostro Domenico Lacave interpreta la situazione. Vediamolo. C'è sempre qualcuno che crede nelle sedute spiritiche, nel trascendentale e quant'altro. E qua vediamo appunto la cava che interpreta un Alibaba, un santone orientale che dice «Ci fu un tempo che Gigino, Giuseppe e Fico presero le scatolette e le poltrone e posticiparono la data e tutti ebbero la pensione». E davanti uno sparuto gruppo di, probabilmente di peons, di senatori al prima nomine, dice «No, eh oh, evviva! La moltiplica dei panni e dei tonni! Toccatemi tutto, ma la mia fetta di tonno no!». Cari amici, ecco dove è finita la famosa apriscatola e la scatoletta di tonno, chiusa e magnata. Cari amici vicini e lontani, anche questa puntata dello Schiacciassassi termina. Prima di salutarvi vi ricordo di iscrivervi al nostro canale per darci la forza e andare avanti con questa voce libera, autorevole e soprattutto fuori dal coro. Da parte di Stefano Eline intanto un saluto e un arrivederci alla prossima puntata. Ciao! Ciao!